Salve, sono Angela Leone della Beable ed oggi vedremo insieme come configurare l'SMTP autenticato in Zimbra. Buona visione! Per prima cosa, configureremo insieme un account esterno di Gmail. Quindi, accediamo a Zimbra inserendo in un qualsiasi browser l'indirizzo IP del server stesso, quindi loggiamoci inserendo l'username e la password. Una volta entrati nell'area, scegliamo Preferenze. Quindi, account e infine aggiunge account esterno per andare a settare le impostazioni dell'account stesso. Inseriamo l'indirizzo email, nel nostro caso appunto quello di Gmail, il nome dell'account, il nome utente dell'account, il server di posta, quindi nel nostro caso pop.gmail.com la password dell'account abilitiamo la connessione criptata SSL e andiamo ad abilitare l'eliminazione dei messaggi dal server dopo averli scaricati. Con questa opzione tutti i messaggi verranno scaricati in Zimbra e quindi non saranno più presenti in Gmail. Testiamo le impostazioni e salviamo. Adesso nel pannello vedremo, tra l'elenco delle cartelle, anche quella del nuovo account creato. Infine, effettuiamo dei test di invio e ricezione per verificare appunto il corretto funzionamento dell'account. Quindi definiamo l'indirizzo email di uscita, l'indirizzo email del destinatario, l'oggetto, il corpo e quindi scegliamo invia. Adesso verifichiamo come l'email è stata correttamente ricevuta, quindi rispondiamo per verificare anche la corretta ricezione dell'email. Forziamo la ricezione cliccando su ricevi posta. Adesso andiamo a ripetere le stesse operazioni però con un account di un dominio proprietario, nel nostro caso beable.it. Quindi se prende le preferenze, account, aggiunge account esterno e andiamo a settare le stesse preferenze. Quindi inseriamo l'indirizzo email, il nome dell'account, Il nome utente dell'account, il server di posta che in questo caso è differente, non è più quello di Gmail ma quello del dominio proprietario, la password, abilitiamo nuovamente la cancellazione dei messaggi dal server dopo averli scaricati e salviamo le impostazioni. Nel passo successivo andremo a eseguire uno script che ci permetterà di abilitare il download automatico dell'email ogni 5 minuti. Infatti, sin ad ora, come abbiamo visto, abbiamo scaricato l'email manualmente. Per effettuare ciò, logghiamoci in webmin all'indirizzo IP del server e sulla porta 9999. Nel campo di ricerca inseriamo SSH2 e accediamo al terminale. Loghiamoci qui con le credenziali di root, posizioniamoci nella cartella script, assegniamo i permessi allo script ed eseguiamolo. Inseriamo quindi l'indirizzo di Zimbra e l'indirizzo email esterno. Adesso, nelle impostazioni, andiamo a verificare come è presente il polling, quindi il download automatico dell'email ogni 5 minuti. Successivamente, andiamo a ripetere l'esecuzione dello script per abilitare il download automatico sul secondo indirizzo email. Grazie a tutti.